Torna il traffico di sigarette di contrabbando a Palermo. Dopo un'analoga operazione della Guardia di Finanza, anche i carabinieri hanno bloccato un carico di bionde. Si tratta di ben 150.000 pacchetti di sigarette di marche inesistenti in Italia, ovvero Jet Royal ed American Legend, quest'ultimo marchio ampiamente diffuso sui mercati illegali di tabacchi. La scoperta è avvenuta durante un controllo ad un autotrasportatore a Palermo. Nel vano di carico del mezzo, fermato a un posto di blocco in piazza Giaccheri, i militari hanno rinvenuto due grandi casse di legno. Visto il disagio dell'uomo durante i controlli, hanno deciso di aprirle e al loro interno hanno trovato altre scatole di cartone con la scritta fragile e recanti, sempre secondo le diciture esterne, prodotti alimentari. I sospetti dei militari crescevano, visto il tipo di trasporto non adatto a prodotti alimentari. Aprendo una delle confezioni in cartone, trovavano così le sigarette di contrabbando. Ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che il carico veniva da Napoli, dove presumibilmente era arrivato dall'America Latina. L'altro canale di approvvigionamento accertato in altre operazioni è invece il Nord Africa. Per l'autotrasportatore sono scattate le manette, mentre le sigarette sono state sequestrate. A gestire questo traffico negli anni 70 in Sicilia era la mafia. Non ci sono ancora elementi che facciano pensare ad un ritorno della criminalità organizzata al controllo di questi traffici, ma forse per effetto della crisi è aumentata la richiesta di sigarette di contrabbando e i consumi, soprattutto in quartieri popolari di Palermo come Ballarò, Zisa, Borgo Nuovo, Brancaccio e Zenne. Quasi 300 mila euro il valore del materiale sequestrato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.